Sì, mi chiamo Simu, da 21 anni sono della provincia di Turin, la lingua che parla siamo piemontese. C'è una lingua che si parla dal nord-oest dell'Italia, una regione che siamo piemonti. E troverete che una lingua sia differente dall'italiano, come ben che in Italia si preferisce meglio il dialetto, perché come si sa bene, che una lingua è differente da un'altra, abbiamo il dialetto. Ebbene, in pratica, l'Uma ha deciso che in Italia le cose non capiscono. Allora, si è deciso di fare confusione insieme alle parole, perché la gente capisce più niente, perché la gente può essere ottenuta in lunga e sviluppata, in grado, quitte tutte queste lingue, tutta questa varietà, l'estate italiana è fina troppo, e dunque l'Uma ne manca tutta questa città, che tutta mica di una città ha la sua maniera di parlare. Allora, l'Uma ha deciso di piantarla lì e di fare la differenza. Allora, l'Uma ha detto che io si parla molto in italiano. Ma io sono qui, qui, con la prima città, la seconda città, in Turin, e per dire che, in questi casi, abbiamo proprio mal fatto parlare in Piemonteis, perché c'è poca gente che è costumato a sentire parlare in Piemonteis in Fiole. E anche, in questo caso, è fina la gente che ha la propria difficoltà a capirlo. Cioè, la propria difficoltà a capire l'uomo che c'è la cammino a dire. E se tiri fuori la parola giusta in Piemonteis, non capisci nulla, allora devi tirare fuori la parola giusta in italiano, al posto della parola Piemonteis. Pare, è una frase più di speranza che capisci, una frase più di speranza che capirà la tua esigenza di parlare Piemonteis, è una frase più di... sai, no. In tutti i casi, l'uomo ha ottenuto a dire anche che, anche il nord-oest dell'Italia, le lingue lucai si parla quasi più di... mentre se uno va da altri posti dell'Italia, le lingue lucai magari sono una frase più resistente, ma in tutti i casi sono anche meno di speranza. Surtroppo perché ha smesso tantissimo con l'italiano che è la città che si inventa l'unica l'unica l'unica, la varietà dell'italiano. A dire anche che, potremmo fare troppo belle, troppo giuste, ma avventura sarebbe da manca e da un po' di sostegno. Il sostegno non arriva, non arriva perché nessuno vuole che arriva. E sempre che cosa è più bella, più giusta e più buona da fare, a salvere la varietà linguistica dell'Italia. E poi la maggior parte delle persone dice ma sì, parliamo italiano, parliamo inglese, parliamo cinese, e poi magari se proprio non interessa, potremmo tirare fuori l'accento, l'accento, no? La cadenza. Il gatto più montato, che era il carattere del popolo più montato, la gente che aveva bella e sì, che aveva a sua maniera di fai, potremmo portarlo in vita, nelle comedie, potremmo portarlo in vita, ma non è nella vita reale, perché è una roba vera, è più fredda, è più fredda, è più in manca, è più in vita, no? E poi, altre cose che c'è da dire, è che abbiamo inteso in realtà, non è una lingua di bale, nel senso che c'è una scrittura, c'è una tradizione letterale, alla era, alla via già, quale, cui trat, che sono tipiche delle lingue, in struttura, che sono issuevive, dalle, e no, e però non lo sa e dunque se non lo sa e poi uno sta fresco e poi uno sta fresco e buon via che non ho mai perso il spirito e non ho parlato di un'eserciza e perché è bello che capita e l'hai pensato più a parte al progetto del wikitone giusto per farvi ascoltare su questa lingua che magari è un'eserciza che non è un'eserciza e buon c'era io e buon dia e stai qui e poi vi faccio questa lingua